allora salve a tutti amici di portici allora vi voglio notiziare dei numeri utili che possono essere sempre importanti come li metto anche per iscritto le dirò anche a voce e spiegare anche più o meno come funziona tutto allora l'ufficio igiene e sanità che il numero è 08 1 7 8 6 23 34 ha messo a disposizione del cellulare che 33 8 36 610 74 ripeto ufficio igiene e sanità 33 8 366 10 74 ovviamente sapete bene che già si sta provvedendo per la deblattizzazione quindi già da due tre settimane stanno girando si può chiamare tranquillamente per vari problemi che ci sono per l'igiene quindi un po di tutto poi passiamo un altro numero importante che per avere informazioni sugli uffici tributi per la tassa tali potete chiamare la geset che il numero è 0 8 1 7 8 6 25 43 poi passiamo alla protezione civile che il numero è 800 718 718 e questo è il numero h 24 poi passiamo ai numeri della lecopetra gestione rifiuti 829 77 33 08 1 7 7 6 35 41 poi passiamo andiamo avanti passiamo andiamo avanti dove sta polizia municipale 800 218 229 08 1 7 8 6 24 28 guardia medica 08 1 7 7 7 5 50 22 isola ecologica che adesso è chiusa poi di aprilà 0 8 1 46 14 92 strisce blu parcheggio che il 3 maggio si potrà sostare senza pagare dopo si pagherà anche per fare i nuovi tesserini per chi lo deve rinnovare il numero è tmp ricordiamo si c'è blu 0 8 1 7 7 6 55 18 passiamo avanti centro per l'impiego collocamento che sta al corso garibaldi numero 45 o secondo terzo piano se non mi sbaglio non ricordo bene tra secondo e terzo il numero è 0 8 1 7 7 6 90 26 i giorni sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 45 in martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 15 poi andiamo avanti acquedotto cori spa numero verde 800 218 270 quando chiamate questo numero verde vedete che vi chiede il cap del comune di appartenenza basta che fate 8 0 0 0 0 5 5 ripeto 8 0 0 8 0 0 5 5 portici poi premete il tasto 2 e vi passa l'operatore andiamo avanti carabinieri stazione dei carabinieri di portici 0 8 1 7 7 6 68 43 polizia di stato commissariato portici ercolano 0 8 1 7 8 8 71 11 andiamo avanti ufficio commercio 0 8 1 7 8 6 27 54 secondo numero 0 8 1 7 8 6 27 60 centralino del comune di comune di portici e 0 8 1 7 8 8 6 21 11 abbiamo detto tutto a asl napoli 3 sud distretto 34 portici centralino e 0 8 1 5 5 0 9 4 0 5 poi tutti gli altri numeri ve li metto a che in modo qualsiasi cosa che avete bisogno potete chiamare a questi numeri buona giornata andiamo avanti non ci fermiamo io vi benedica un saluto a tutti quanti e io vi benedica un saluto a tutti non ci fermiamo '